un cordiale saluto buongiorno buongiorno a tutti voi oggi è venerdì 22 maggio 2015 anche se sembra novembre perché perché il tempo lo vedremo tra un attimo è come anticipato un tempo da lupi un tempo assolutamente nuvoloso con tanta pioggia che è iniziata a cadere ma vedremo anche quanta con il nostro osservatorio prima andiamo a vedere il santo di oggi perché oggi è una santa una santa che tutti noi amiamo santa rita da cascia la santa degli impossibili il sole sorta le 5 35 tramonterà le 20 e 34 allora vediamo il tempo intanto la fotografia di una di un cielo coperto da nuvole nuvole gonfie di pioggia la temperatura 12 gradi alle 7 e 30 del mattino da mezzanotte la nostra stazione stazione meteo ha raccolto 33 mm di pioggia con l'intensità massima di 84 allora intanto questa è la fotografia vediamo il satellite se riesco a farvelo vedere eccolo qua il satellite con l'immagine aggiornata e l'animazione vedete comincia il vortice sulla sulla nostra penisola in particolare sulle regioni centro settentrionale ma un po anche vedete la parte meridionale allora andiamo adesso sul sito della protezione civile per vedere le previsioni del tempo avremo precipitazioni diffuse prevalente carattere di rovescio di temporale i fenomeni sorranno forte di forte intensità a livello locale le temperature insensibili diminuzione i venti nord orientali di vento teso il mare sarà molto mosso per domani 23 sabato ancora cielo nuvoloso con attenuazione della copertura dal pomeriggio ancora precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio in particolare nella mattinata i venti nord occidentali di vento teso le temperature saranno stazionarie per domenica migliora in parte ma insomma non possiamo dire che sarà una domenica probabilmente da mare ma insomma accontentiamoci per ora domenica avremo nella mattinata piovaschi o brevi rovesci sparsi poi questi fenomeni saranno in completo esaurimento nel corso del pomeriggio le temperature saranno stazionarie i venti settentrionali di brezza tesa quindi saranno più freschi la permanenza di una circolazione ciclonica determinerà un inizio di settimana variabile con un miglioramento per lunedì 25 però poi martedì martedì 26 il tempo peggiorerà di nuovo allora ieri a un certo punto abbiamo battuto la notizia sul nostro sito internet la notizia dell'incendio all'ex discoteca Miu Miu a Marotta il nostro sito è stato il primo sito come spesso accade ma questo lo diciamo non per esaltarci ma per dire che siamo sempre sul pezzo questo ci fa piacere anche le vostre segnalazioni questo è bene ricordarlo allora rogo nel tempio della notte in cenere l'ex Miu Miu le fiamme si sono sprigionate all'interno del locale un incendio dunque di vaste proporzioni ieri pomeriggio è distrutto la discoteca storica di Marotta l'ex Miu Miu o Miu J'adore e ancora prima proseguendo a ritroso nel tempo e qui adesso torniamo ai ricordi Miu Miu Jiki Jabi Jabi Maxi dancing da un paio di anni il suo nome era la folie ed era cambiata anche la gestione affidata ad una società con sede san costanza il cui membro di maggioranza e di origine albanese scrive il quotidiano il resto del Carlino ma andremo poi anche sugli altri giornali per vedere anche come che cosa hanno scritto il Corriere ed il Messaggero dal fuoco all'acqua dopo l'assaggio d'estate ecco i giorni del maltempo scatta l'allerta meteo da oggi piogge forti e durature con rischio purtroppo di nuovi di nuovi danni a mercatale abbassato il livello del lago in previsione di una piena che potrebbe arrivare nella giornata di domani la protezione civile regionale ieri ha emesso il bollettino di allerta meteo parlando di criticità idrogeologica elevata per la regione ed in particolare per la provincia di Pesaro Urbino da oggi dunque fino a domenica sono attesi quantitativi di pioggia che vanno da 80 a 150 millimetri a seconda degli areali poi la notizia della morte di Giancarlo Russo classe 1967 uno degli eroi del futbolo americano dei tempi d'oro addio a Giancarlo aveva militato negli angels era veterinario i cavalli la sua passione così come la musica e funerali domani alle 14.30 nella chiesa di San Carlo poi la storia la storia di due persone che hanno salvato un uomo che aveva tentato di togliersi la vita e si era gettato con la sua auto nel canale a Gabice si butta nel canale salvato da tre ragazzi Gabice anziano voleva farla finita due si tuffano in acqua uno lo issa in banchina il sindaco Domenico Pascuzzi vuole adesso conferire loro un riconoscimento e farebbe bene aggiungiamo noi perché insomma a mettere a rischio la propria vita per salvarne un'altra non è cosa dei nostri tempi però è bello leggere che invece ancora ci sono persone che decidono di rischiare la propria vita per salvare quella di altre ho spaccato il lunotto racconta uno dei due eroi e lo abbiamo tirato fuori ho usato la pentola per rompere il vetro il mio amico lo ha tirato su la differenza tra assistere ad una tragedia e fare in modo di evitarla ha un nome Mauro Farina 32 anni di professione cuoco residente a Gabice anzi ha due nomi c'è anche l'amico Cesare di 42 anni sempre di Gabice bravi Rido invece il caso Ridolfi il giocatore coinvolto nel calcio scommesse Rido ha ottenuto i domiciliari non ho mai venduto partite dice lui il legale è estraneo alle accuse penali ma ha fatto degli errori il giocatore ha ammesso di amare scommettere ma mai sul Sant'Arcangelo scarcerazione firmata ieri con l'obbligo di non muoversi di casa insomma il giocatore arriva e fa il segno del silenzio agli amici come dire non posso parlare non posso dire niente nel palazzo è stato messo fuori un lenzuolo con scritto io sto con Rido tra l'altro il giornale ricorda che i tesserati cioè i giocatori quelli che giocano a calcio hanno l'obbligo di non scommettere fa parte del regolamento della federazione italiana gioco calcio che appunto impone che i calciatori compresi quelli dilettanti non facciano scommesse sulle partite di calcio adesso andiamo sul Corriere Adriatico sole assicurato a Pesaro cambia il bonus non è non più un rimborso con polizza assicurativa in caso di pioggia ma prolungamento della vacanza oppure sconto futuro continuerà a chiamarsi sole assicurato ma la formula da adottare per l'estate 2015 è stata completamente rivista il sindaco Matteo Ricci e il presidente APA Fabrizio Oliva insieme agli albergatori potrebbero aver trovato la quadra lasciandosi sfuggire questa volta che questa volta potrebbe essere la volta buona insomma si sono lasciati sfuggire questa nota di ottimismo poi andiamo sull'altra pagina del Corriere Fano da Fano alle aziende servono mini bond Mario Formica lo vedete in questa immagine Mario Formica chi è Mario Formica è un imprenditore nato a Piobbico la cui famiglia di origine vive a Urbani dopo aver dedicato 40 anni alla propria impresa ha deciso di affrontare direttamente l'impegno politico istituzionale schiarandosi con Gian Mario Spacca nella lista Marche 20 e 20 e ieri si è presentato a Fano pesca delle vongole modifiche alla norma lo annuncia il sottosegretario Castiglione nell'incontro con gli operatori organizzato da Carloni taglia ormai inadeguata stiamo parlando della taglia delle vongole che tanti problemi sta dando ai pescatori da Fano ancora il Corriere distrutta dal fuoco la storica discoteca le fiamme alla folie divampano dopo le 17.30 il fumo nero fusca il cielo l'ipotesi dolosa per due focolai tra l'altro a proposito di colonna di fumo addirittura c'è chi racconta di averla vista dall'autostrada uscendo svalicando e passando la galleria quindi da Fano vedendo si vedeva questa colonna di fumo distanza di chilometri chilometri tantissime sono state telefonate ovviamente al 115 dei vigili del fuoco per dire che insomma c'era qualcosa che non andava nel locale c'era un addetto alla manutenzione della società italo-albanese che gestisce la struttura qui parla di società italo-albanese poi in realtà parlando ieri con uno dei titolari è venuto fuori che chi fa parte di questa società sono tre persone tutte e tre albanesi adesso questi sono ovviamente ancora dettagli poi finge avance per rubargli l'orologio una donna denunciata per due furti con destrezza e sospettata di altri colpi immaginatevi di adesso per un istante intanto vi lasciamo la fotografia di questa donna di 44 anni che è stata denunciata dai carabinieri di Fano perché i carabinieri insomma in qualche modo aspettano eventualmente anche altre segnalazioni insomma fatevi avanti lasciate adesso da parte l'orgoglio la dignità e tutto quanto qui bisogna collaborare quindi se qualcuno ha informazioni può rivolgersi tranquillamente ai carabinieri dicevo immaginatevi a 85 anni di accompagnare vostra moglie dal parrucchiere e mentre attendete seduti in un bar vi vedete avvicinare questa 44enne che si è spacciata per la figlia di una persona nota eccetera che conoscete e di sentirvi dire mi accompagni per favore a vedere questa casa che devo acquistare e voi che state lì al bar a leggere magari vi annoiate pure se la moglie ce l'avete sotto il casco del parrucchiere cosa fate? insomma dite sì e l'accompagnate pensando di fare un piacere poi scatta la trappola però perché nel momento in cui la fate salire in macchina cosa fa? questa comincia a farvi le moine e quindi a mettervi le mani addosso mani addosso che per voi magari significa una cosa così così per lei invece significa poter tastarvi bene e capire che cosa avete addosso e quindi portarvi via quello che avete e così è successo l'85enne dopo un primo momento di imbarazzo si è divincolato e con garbo ha dichiarato l'intenzione di voler tornare al bar bravissimo a questo punto la donna è stata si è ricomposta però insomma era riuscita a nel frattempo a prelevargli dei soldi insomma prelevargli quello che doveva prendergli insomma e quindi alla fine un orologio penso d'oro che portava il polso ecco non i soldi un orologio addirittura rubato durante l'abbraccio depositato il ricorso al tar andiamo a Marotta lunedì sera un incontro nella sala ciriachi organizzato dai promotori depositato dicevo il ricorso al tar ecco perché tornano di stretta attualità la chiusura del passaggio a livello e le relative opere sostitutive poi da pesero non so se ecco forse la pagina di fa non 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 vi ho letto prima giusto del del sempre su questo argomento promette che no perché mi era rimasto impresso il titolo che forse questa era più accattivante faceva capire meglio rispetto agli altri prometteva l'amore e prendeva soldi prima li seduceva poi li derubava anziani raggirati due volte chi è ecco l'appello cui dicevo che qui facevo riferimento prima che è stato vittima del raggiro segnali l'accaduto in caserma poi sempre dal carino oggi un incontro a roma tra i sindacati la proprietà dell'ocean e sotto invece sul porto maxi costo per il mini dragaggio i grillini attaccano il sindaco massimo seri scelta una strategia secondo i grillini sbagliata poi l'altra pagina del resto del carlino la ripresa passa per il turismo la ricetta dell'albergatore bruno rap boris scusate boris rapa gemellaggi e rilanciare gli yacht e poi sotto dal sempre dal messaggero ecco apriamo il messaggero allora si parla di notte rosa la notte rosa verso gli sconti la regione apre all'idea di anticipare gli sconti al 3 luglio i saldi nei negozi del centro storico prima adesione all'evento musica in viale trieste a pesaro fino a luna di notte poi feste in spiaggia guardate una immagine un fermo immagine del rogo questo è il secondo focolaio se non ricordo male sì quello che è scoppiato un po' più tardi rispetto agli altri del quale non ci si era accorti perché ci si è accorti quando è divampato di nuovo ed è salita questa colonna di fumo molto nera tra l'altro il secondo focolaio ve l'abbiamo trasmesso in diretta possiamo dire sul nostro canale perché quando ci hanno informati di questo incendio siamo andati giù anche con l'attrezzatura per la diretta quindi chi ha seguito nel pomeriggio dalle 18 in poi eravamo lì in diretta e vi abbiamo fatto vedere anche questo secondo focolaio colossale incendio scrive il messaggero distrugge l'ex miu miu andiamo velocemente dunque sulle altre pagine del messaggero spacca e renzi si marcano stretti il premier rinvia al 29 la chiusura della campagna elettorale e il candidato presidente fa slittare la convention allo stesso giorno il governatore i sondaggi riservati ci danno in testa parlare delle marche ai marchigiani è il nostro segnale non si potrebbe parlare di sondaggi insomma qualcuno poi i profughi al lavoro dicono che bello essere utili così noi ringraziamo prima giornata di volontariato nelle aree verdi di muraglia tra terribili storie di guerra e voglia di ricominciare la notte rosa fa anche gli sconti associazioni di categoria soddisfatte e la regione sarebbe pronta ad anticipare i saldi in centro storico ancora una pagina intera per il rogo che distrugge l'ex miu miu con tanto di fotografie e poi yacht da fano il rilancio del made in italy e poi infine la pagina di fano del messaggero su sassonia e sul porto incombe l'allerta meteo il maltempo minaccia le opere e i progetti contro il dissesto l'assessore Paolini ha incontrato gli operatori balneari per spiegare come saranno realizzate le nuove scogliere ok allora poi c'è un'altra notizia invece che riguarda ecco qua la diamo perché il messaggero si è occupato sempre della storia di Roberto di quella persona disabile, quel giovane disabile a cui è stata rubata la carrozzina Mobility ebbene Roberto riavrà un'altra carrozzina bene noi ci fermiamo qui allora siamo quando c'è l'allerta meteo ovviamente la nostra redazione viene in qualche modo allertata e dunque è attenta a quello che accade sul nostro territorio chiediamo anche a voi di fare altrettanto e di segnalarci con Whatsapp in particolare con foto e video quello che avete davanti agli occhi se è una notizia di cronaca e ha la dignità di un passaggio su internet sui nostri mezzi di informazione potete inviarci al 338 49 68 250 le vostre segnalazioni noi poi faremo ovviamente le dovute verifiche e lo metteremo sui nostri device e quindi anche in televisione 338 49 68 250 per le vostre segnalazioni per noi sempre molto importanti vi auguro una buona giornata, vi ringrazio di aver seguito Occhio ai giornali stasera alle 20.30 c'è Occhio alla Notizia, arrivederci a tutti